Le feste 2013 in via Roma a Recanati, dove si notano subito vetrine bene allestite e interessanti mercatini di articoli vari. La città si apre al suo esterno con un ricco ventaglio di proposte, luci, colori, animazioni e quant'altro per rinvigorire lo spirito e favorire la partecipazione. Sono i giorni degli auguri, dei buoni propositi e del carbone a chi lo merita. Il 2013 non è stato un anno facile per colpa della crisi che ha coinvolto tutti. Con il lavoro che non c'è, con i giovani che hanno quasi perso la speranza di trovarlo, con le famiglie che purtroppo non riescono ad arrivare a fine mese, dato il budget familiare è sempre ridotto. E il Moika è anche convolto in questo perché da sempre è vicino ai problemi delle donne e della famiglia. E le sue attività, le sue iniziative le ha portate sempre avanti, incentrate nel sociale e nella certezza che insieme possiamo superare anche queste nuove difficoltà. Dunque auguri, ma il carbone a chi lo diamo? Io più che pensare al carbone vorrei pensare al Natale che è vicino, che porta sempre un soffio di serenità. E l'augurio che voglio fare a tutte e a tutti è quello che l'anno nuovo porti un segnale positivo per tante famiglie che ne sono in attesa. Cura, estro e fantasia nelle vetrine dei negozi? Buoni voti dunque ai commercianti di Via Roma per l'impegno messo nella realizzazione del tutto. Favorita al meglio la partecipazione popolare. In tutti un clima di moderata euforia vista la precaria situazione nazionale, molto sentita anche in questa malandata parte del territorio nazionale. Beh, dobbiamo fare gli auguri ai re canatesi, gli auguri di un buon Natale, gli auguri di un buon anno, affinché l'anno nuovo possa essere veramente l'anno della ripresa. Re canati come un po' tutta l'Italia è attraversata da una crisi maledetta, che attanagli imprese, famiglie, attività produttive, negozi che fanno difficoltà a pagare quello che debbono pagare. Quindi gli dobbiamo fare i più nostri cari auguri, ci dobbiamo augurare tutti tante belle cose per l'anno nuovo. E per l'amministrazione comunale dolci o carbone? Ma per la Befana sicuramente carbone. Oggi ci troviamo in questa via, una bellissima iniziativa nata da negozianti di questa via. Cioè siamo arrivati al punto che le attività produttive, gli artigiani, i negozi passano avanti in qualche modo e danno delle idee, diciamo, propositive e favolose, come queste paio di realtà. Noi dobbiamo veramente vedere ad un 2014 con una ridazione delle tasse, con un'assistenza maggiore alle famiglie che sono in difficoltà e con un'assistenza particolare a tutte quelle attività produttive che sono veramente strozzate da un Imo che è la più alta d'Italia. Quindi l'augurio che facciamo è proprio questo, di rinvertire la rotta nell'anno successivo, che deve essere una rotta che deve andare nella direzione assolutamente di un contenimento della pressione fiscale, deve andare nella direzione della vicinanza con le persone che hanno difficoltà. Interessi e attenzioni a loro sulla via che porta a casa Leopardi. Sicuramente vincente la realizzazione delle numerose iniziative messe in calendario per questi ultimi giorni dell'anno. L'impegno c'è stato, adesso si spera che venga ripagato da una buona partecipazione di pubblico. Sotto ancora con gli auguri e con tutto quello che segue. Sono i giorni del bilancio, in genere alla fine dell'anno si tirano un po' le somme. È stata un'annata un po' complessa, impegnativa. Chiaramente cambiano gli scenari, il mercato sta cambiando, le nuove leggi impongono anche a noi professionisti del settore di adeguarci per poter trovare strumenti e supporti a un'attività che diventa sempre più complessa. Perché i clienti sono molto più esigenti, viste anche le tipologie di contratto e di trattative che andiamo ad affrontare. Quali auguri vogliamo fare al mercato immobiliare? Un augurio particolare viene rivolto a tutti i miei clienti, soprattutto ai futuri clienti, che possano acquistare con serenità e i venditori che possano vendere con grande soddisfazione. A richiamo di popolo per la chiesa di San Vito, dove sono visibili fino ai primi giorni del nuovo anno il presepio meccanizzato di Leandro Messi e le immaginette sacre di Enrico Scarponi del locale circolo filatelico numismatico, due apprezzati appuntamenti culturali per favorire momenti di svago e di socializzazione. Avanti i commenti su quest'anno che si va a chiudere, con la quasi certezza di non trovarne uno nuovo migliore di questo che stiamo lasciando. E' un periodo molto molto critico, un periodo in cui è difficile riuscire a essere sorridenti, felici, quindi gli auguri molte volte sono tristi in questo periodo, però è importante in qualche modo riuscire a superare questa tristezza dovuta al momento, alla crisi generale e cercare di recuperare quello spirito natalizio che è importante, nonostante tutto. No, gli auguri al microchip. No, quelli del microchip che sui sacchetti della differenziata come qui a Recanati o come... non ne dico no. Dico un altro microchip importante, in un comune d'Europa, un'iniziativa carina è stata quella di un'amministrazione che ha regalato per il periodo natalizio dei piccoli sacchettini con un chip musicale. Allora, quello sì, ma quello nostro differenziata no. Festeggia dunque via Roma, gode l'occhio su situazioni e scorci ambientali di sicuro effetto, si gusta l'atmosfera dei giorni importanti, ore liete per tutti anche se avremo preferito periodi migliori, perché in giro c'è sempre più gente che soffre e ha bisogno di aiuto. Sarà dura, molto dura. Beh, intanto faccio gli auguri ovviamente personali, i miei a tutti i recanatesi, a ogni recanatese, di salute prima di tutto per l'anno nuovo, di buon Natale, Natale sereno, ma soprattutto di tanta salute per tutto l'anno e per sempre, speriamo, e anche di buon lavoro per chi ce l'ha, di mantenerlo e di trovarlo per chi non ce l'ha, perché questo è il tema più importante in questo periodo. Quindi auguri di serenità, ma anche di possibilità di vivere normalmente in termini occupazionali ed economici. Da quello che ho capito, una triste fine di anno. Purtroppo non è stato un anno bello, assolutamente, è un anno difficilissimo, sono anni difficilissimi, ma stiamo davvero arrivando al fondo, speriamo di poter risalire presto, perché l'economia è a terra, la nostra città è ferma, come tutto il contesto intorno, d'altra parte, quindi speriamo che ci sia qualcosa di più positivo nell'anno prossimo, però certamente quest'anno non è stato un bell'anno da nessun punto di vista. Inizia quindi il conto alla rovescia sulle feste che chiudono l'anno e ne aprono uno nuovo. Auguri a tutti, a quelli che ci seguono e a quelli che ci indicano come una informazione di parte. Gli auguri si fanno a tutti, anche a quelli che ci criticano, basta che siano sinceri. Avanti ancora con un gradito ospite nell'avanzato pomeriggio di Via Roma. Io vorrei che la città di Recanati si calasse un po' nel ruolo del bambino, perché il bambino è spontaneo, è semplice, ha la semplicità di cuore, e quindi l'augurio ai recanatesi che possano trovare questa semplicità di cuore. E alla cultura locale, carbone o no? Un pezzettino di carbone non guasta, anche perché così apprezziamo di più il dolce e il carbone bianco. Sempre di carbone parliamo però, quindi un carboncino piccolino piccolino per la credine che c'è stata durante l'anno fra le diverse fazioni, dico io, ma chiamarle fazioni poi non è neanche bello. Comunque l'ho vista in questa maniera. Albero di Natale in piazza Leopardi, bello e suggestivo. Sotto l'albero però, la voce di un commerciante di via Calcagni che lamenta lo scarso successo dei suoi affari per via dell'isola pedonale istituita per le feste. Isola pedonale che modifica il traffico nel centro storico e che penalizza non poco le varie attività interessate. Come si può notare, praticamente noi senza il traffico delle auto purtroppo non lavoriamo assolutamente, perché io penso che prima per fare una casa bisogna fare i fondamenti e poi dopo fare tutta la parte superiore. Qui ancora i servizi non c'è e noi facciamo tutto all'incontrario.